Simone, il risultato giusto quello di stasera? Giusto, loro sono stati più cinici. Noi abbiamo avuto 3-4 palle gol prima del loro 1-0, non siamo stati bravi a buttarla dentro e poi in due palle inattive sono stati bravi loro a fare gol e poi la partita è stata difficile da riprendere. La prestazione è stata buona e probabilmente il Manto non meritava di più. Avete rimpianti? Credo che la prestazione sia stata molto buona perché abbiamo giocato contro una squadra forte e quindi però abbiamo dimostrato comunque di imporre il nostro gioco anche con il Cesena. È stata buona, non abbiamo rimpianti nel senso che per noi è stata una grande stagione perché come ho già dichiarato è una neopromossa che arriva nei play-off e se la gioca con una squadra forte come il Cesena è un grande traguardo, è un punto di partenza secondo me per questo Mantova. Sono molto orgoglioso della stagione che abbiamo fatto, dei miei compagni perché ho trovato veramente un gruppo affiatato che prima di essere calcettone sono stati uomini. Questo per me è molto molto importante. Soddisfatti comunque della stagione? Credo di sì, credo di sì perché come ho detto siamo arrivati per le off, ci siamo salvati con tante giornate d'anticipo, quindi sì, soddisfatti anche se bisogna sempre volere di più sicuramente.